Allora, con Alessio Morosin, candidato presidente della Regione Veneto per Indipendenza Veneta. Ecco, la vostra è una campagna elettorale, un programma che è caratterizzato da una cifra. Uno. Perché uno? Il numero uno perché vogliamo vincere, vogliamo arrivare primi. Numero uno perché io sono l'unico su 226 ex consiglieri regionali che ha rinunciato al vitalizio già cinque anni fa. Uno perché il punto del programma è uno solo. Non abbiamo dieci punti, nove, otto, neanche tre, neanche due, ma ne abbiamo uno solo. Che è quello di portare i Veneti a votare sul tema dell'indipendenza. Quindi un atto di democrazia, un atto di libertà, di libera manifestazione del pensiero che lo Stato italiano vorrebbe impedirci di esercitare. Questo è il punto, diciamo, qualificante. Allora, se queste elezioni dovessero andare bene come sicuramente lei si auspica, chiaramente il Consiglio regionale del Veneto, non solo quello del Veneto, funziona in maniera completamente diversa da quello che voi auspicate. Quindi cosa succederà? Beh, diciamo che non sarebbe più un Consiglio regionale. Sarebbe un Parlamento in fase costituente che si muove sul principio di autodeterminazione. Quindi vorremmo dar corso alla consultazione referendaria, appunto, sul diritto di autodeterminazione, quella prevista dalla legge 16, che siccome sarà quasi certamente bocciata dalla Corte Costituzionale il 28 di aprile, noi ci proponiamo di riscriverla, di rilanciarla, correggendone quelle parti, migliorandola in quelle parti che, come quella riguardante la spesa appunto del referendum, ha bisogno di essere immediatamente corretta. È impensabile che il referendum sull'autonomia costi 3 milioni e 900 mila euro e quello sull'indipendenza 14 milioni e per di più a carico dei privati, non a carico dell'erario che siamo sempre noi. Questo è lo spirito, questo è l'obiettivo che ci siamo prefissi.